1 marzo 1810. Nasce a Zelazzova Vola, in Polonia, Friedrich Chopin, considerato il più grande compositore polacco e uno dei più grandi pianisti di tutti i tempi. Fra i principali rappresentanti del romanticismo è soprannominato il poeta del pianoforte. A vent'anni si trasferisce a Parigi e nel 1838 incontra e si innamora della scrittrice Georges Sand. Insieme hanno una relazione intensa e tormentata che al termine lascia Chopin in una profonda depressione. Il dolore dell'abbandono peggiora la fragile salute del musicista che muore a Parigi il 17 ottobre 1849. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.